The Boys, stagione 3, finalmente si è conclusa e vorrei parlarne insieme con voi. Wabalaba dab dab fichette e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Serie TV e con mio grande piacere torno a parlare di The Boys. Mi sembra ieri che grazie ai video di Cosmopoliner, di Victor Lazlo, ma anche grazie al consiglio di un amico ho scoperto questa stagione, che è stata la prima serie che ho binge-watchato da tanto che mi aveva entusiasmato la visione. Poi c'è stata la volta della seconda stagione, che era piaciuta a tutti anche più della prima, tranne a me. Io sono uno di quelli che la seconda stagione l'ha apprezzata di meno, nonostante aveva davvero dei temi interessanti, e dei personaggi interessanti, però ecco, quello che a me è sempre piaciuto di The Boys è il fatto che anche rispetto al fumetto che invece aveva il compito nel lontano 2008, se non sbaglio, 2010, di decostruire il mito del supereroe e abbassarlo ai livelli più infimi dei difetti umani, qua invece si usa il supereroe come metafora di tutte e tutte le cose che non vanno nella nostra società occidentale. Nella seconda stagione si è perpetrato di nuovo questo concetto, vertendo magari un attimino di più sul punto di vista dell'informazione, di quello che è vero e di quello che invece ti passano i media per insabbiare il tutto. Nella terza stagione questo tema continua e sempre molto presente, soprattutto dal punto di vista dei social, di quanto i social sono una vetrina falsa di quello che c'è davvero dietro alla persona reale e quello che c'è davvero dietro a un'azienda che si preoccupa solo attraverso statistiche e studi di marketing di andare meglio sul mercato promuovendo un'immagine perfetta di se stessa, ma quando in realtà tutto quello che promuove non gli interessa minimamente. Guardate anche nel mondo reale, è appena finito il Pride Month, il mese del Pride, dove tutte e tutte le multinazionali, tutte le aziende si sono colorate con colori arcobaleno per salire sul carro di quello che era in trend sui social in questo momento. Adesso che il Pride Month è finito, sicuramente a queste aziende non gliene fregerà più un cazzo e sicuramente quelle a cui fregava già anche prima non hanno certo bisogno di sbandierarlo ai 4-20 perché lo si percepisce, se si è un attimino più furbi, chi ci tiene davvero a un tema e chi invece sale solo sul carro dei vincitori. Questo cerca di farci capire The Boys ed è, credo, un messaggio molto utile da imparare nel 2022. Prima di cominciare, anche se ho già parlato per tre minuti, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno una calzamaglia nell'armadio e di commentare qui sotto con quello che viene apparso di questa stagione, di questo finale, di questo video, di quello che volete. Scrivetemi qua sotto qual è il vostro super preferito e qual è il vostro boys preferito. Seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, per vedere quello che faccio oltre a YouTube. Una cosa che mi è piaciuta molto rispetto, per esempio, alla stagione 2 è che questa stagione tratta un tema quanto mai attuale, che non era trattato nella scorsa stagione, nelle scorse stagioni, perché non era così attuale, o quantomeno era a discapito di un manipolo di poche persone ignoranti e esterne alla realtà dei fatti, e sto parlando del complottismo. Mentre quello che è successo tra il 2020 e il 2022, ovvero la pandemia, il lockdown, il virus corona, il covid, il fatto di dover essere vaccinati in no mask, in no vax, tutte queste cose hanno riportato a galla quanto davvero nella popolazione c'è di persone che non credono a certi media e credono ad altri. E va benissimo, peccato che credono a quelli sbagliati. Come si dice, portando avanti un'idea che loro sono scaltri e sono illuminati da quello che le notizie ufficiali non dicono, e pensano di avere la realtà in mano, perché vanno a scovare notizie che nessuno ci dice, quando in realtà è tutto su internet, e sono tutte notizie clickbait, se va bene, o addirittura fake false, tanto solo per avere dei click, solo per indignare, perché è così che va il mercato. E queste persone complice la paura di quello che sta realmente succedendo, il fatto che non si vuole accettare una realtà così grave di quello che sta succedendo, ma complice anche un po' l'effetto Dunning-Kruger, che è quello dove una persona che è talmente non esperta di una cosa non si rende conto di non esserla, mentre una persona che sa di essere fallace e di poter sbagliare può sempre migliorarsi. Ecco, la combinazione di queste due cose ha creato il complottismo degli ultimi tempi, che è quello sul virus e sui vaccini. In questo caso, nella stagione di The Boys, anche se non è il tema principale, ma è tenuto così in sottofondo ed è veicolato principalmente dalla figura del patrigno della figlia di Latte Materno, ovvero il complottismo sul fatto che Starlight, che in realtà noi sappiamo sta dicendo la verità, è accusata di tenere in ostaggio dei bambini e di fare degli esperimenti sui bambini. Se ci fate caso, le persone di destra, perché parliamoci chiaro, Homelander è chiaramente lo stereotipo del supereroe repubblicano, ci tengono sempre a gettare fango sui democratici, in questo caso su Starlight, che rappresenta un po' una persona che vuole buttare giù le schifezze di Homelander, di un repubblicano. I repubblicani cercano sempre di gettare fango sui democratici difendendo l'onore di questi famigerati bambini che in realtà non esistono, è una cosa che si è inventato di sana pianta Homelander e ci sono le persone, semplici genitori, che come sentono la parola bambini, quindi si sentono toccati nel vivo, si schierano automaticamente dalla parte di Homelander e tutto questo tema, che è molto un sottotesto della terza stagione, ma va a culminare nel finale, che molti hanno trovato sottotono, sì, e sono d'accordo, è sottotono dal punto di vista dell'impatto visivo e mediale, rispetto a quello della seconda stagione, per esempio, ma è molto più sottile, ci sono molte cose molto più inquietanti che con questo finale potremmo vedere o saremmo costretti a vedere nella prossima stagione. Mi riferisco al fatto che Homelander, spoiler alert ovviamente sul finale, Homelander ha spappolato la testa di un difensore di Starlight di fronte a una folla e la folla, rappresentata ancora una volta dal patrigno della figlia di Latte Materno, invece di spaventare, o meglio, si è spaventata, si è spaventata a tal punto che ha, il suo cervello ha, ha elaborato la cosa difendendo Homelander, difendendolo e esaltandolo e puntando il dito su questa persona che si era permessa di lanciare un pomodoro a un bambino, sempre il discorso del bambino, e questo giustifica per questo tipo di persone l'omicidio a sangue freddo. Siamo arrivati a un punto di ribaltamento sociale tale che è davvero preoccupante, quello che Homelander si sentirà in potere di fare con l'aiuto appunto del suo pubblico, delle persone che lo amano, perché l'obiettivo principale di Homelander è essere amato, essere venerato. Ora che Homelander ha fatto una cosa del genere e non è stato buttato giù dall'opinione pubblica, ma anzi è stato esaltato da essa, farà delle cose davvero terribili e potrà sentirsi in diritto di fare delle cose davvero terribili proprio in merito a questo. Quindi non sottovalutate il finale di The Boys stagione 3 per questo motivo. Per il resto la stagione 3 rispetto alle altre due stagioni verte di più sulla crescita dei personaggi, cosa che magari non avevamo visto nelle prime due stagioni, quantomeno non principalmente, era principalmente il tema fondamentale a portare avanti la baracca e poi c'erano i personaggi. Qua invece mi sembra che ci si concentri un po' di più sui personaggi e sul tentativo di recuperare un po' quella che è la storia principale del fumetto, sempre però citandola e mai seguendola pedissequamente. Non saprei dirvi chi è che fa la crescita migliore in questa stagione perché tutti i personaggi sono caratterizzati molto bene e hanno una crescita davvero interessante. Il piccolo Hui che dopo un anno dalla stagione 2 perché la stagione 3 è ambientata un anno dopo esatto, parte dall'essere un funzionario governativo insieme a Victoria e pensa di lavorare contro i super in modo pulito per poi scoprire che è tutta una macchinazione. cade da questa sua convinzione si sente di nuovo debole prende il V temporaneo combatte questo suo senso di inadeguatezza questo suo senso di inferiorità anche nei confronti di Starlight che è la sua ragazza ma è più forte di lui quindi si combatte anche questa mascolinità tipica che cerca di combattere per tutto il tempo e nel finale si riscatta perché può aiutare Starlight in due modi o prendendo il V temporaneo anche a discapito della propria salute oppure dando forza a Starlight aumentando al massimo tutte le luci elettriche del palazzo e sceglie questa seconda via questo sancisce la fine del suo percorso in questa stagione per quello che è il sentirsi forte su cui tra l'altro fa un bellissimo discorso che coinvolge anche suo padre e l'essere davvero forte cioè sul mostrare forza e sull'avere un tipo di forza diversa che non si vede ma che è molto presente dopodiché Latte Materno che ovviamente fa una crescita dal appunto anche lui è una persona che tiene tutto nascosto ai bambini perché li vuole proteggere finché appunto non c'è più nulla da nascondere non riesce più a nascondere la sua indole arrabbiata soprattutto perché in questa stagione c'è Soldatino che è il vero villain della stagione come l'anno scorso c'era Stormfront quest'anno si supponeva fosse Victoria il vero villain invece Victoria viene tenuta ancora da parte e resterà una cattiva politica in sottofondo nonostante abbia dei poteri da super e il cattivo di questa stagione ha tutti gli effetti Soldatino e la presenza di Soldatino fa sclerare male Latte Materno al punto che colpisce appunto il patrigno di sua figlia di fronte a lei questo grazie anche a un discorso di Frenci lo porta finalmente ad affrontare la realtà insieme a sua figlia e questo fa nascere un nuovo rapporto con lei che non è fatto di nascondere le cose orribili sotto il tappeto ma di parlarne con lei e crescere insieme questo sicuramente lo porterà ad avvicinarsi meglio a sua figlia e spero vivamente che allontanerà la figlia dal patrigno ma dato che il patrigno si è radicato in quello che dice Homelander ci saranno non pochi scontri secondo me il patrigno in qualche modo farà una bruttissima fine nella prossima stagione abbiamo anche Butcher che in un certo senso fa una sua crescita anche se è davvero difficile far crescere una persona marcia come Butcher ma in un certo senso quando può scegliere la parte migliore di sé che comunque è brutta la sceglie salvando Hui da prendere il V temporaneo per un'ultima volta lui invece lo prende e abbiamo visto ha pochi mesi di vita e e facendo un percorso personale dovuto anche alla la tempesta temporale alla tempesta mentale che gli ha che gli ha provocato Mindstorm su quello che è successo al suo fratellino sul fatto che lui è cresciuto in un certo senso diventando come suo padre nel senso negativo del termine ma in un certo senso alla fine riesce a riscattarsi salvando Hui questo rapporto padre figlio che comunque è un tema molto preponderante nel nel concetto americano di vita così come noi italiani abbiamo la mamma loro hanno proprio il rapporto paterno come rapporto più importante della loro vita viene visto anche tra Homelander il figlio di Homelander ma anche Homelander e Soldatino che si scopre essere suo padre cosa che vabbè non è stata gradita da molti fan del fumetto io sono tra questi in senso mi sembrava una cosa superflua ma l'hanno sfruttata per vedere per mostrare il percorso diverso tra Butcher e Soldatino mentre Butcher riesce alla fine della stagione a essere diverso da suo padre a evolversi a interrompere il ciclo Soldatino che invece appunto voleva interrompere il ciclo si ritrova invece a fare gli stessi errori di suo padre e a scontrarsi con Homelander proprio mentre Homelander sembra aprirsi in modo sincero a suo figlio che in quel momento aveva bisogno di una figura paterna dal momento che era stato allontanato da Butcher per il suo bene peccato che Butcher non aveva fatto i conti con il fatto che questo bambino non può rendersi conto ancora di una cosa del genere e esattamente come la folla inferocita che sostiene Homelander ha trovato in Homelander la figura paterna che gli mancava e saranno cazzi amari nella prossima stagione sicuramente parlando un attimo degli altri super c'è Deep che è sempre un po' la linea comica comica e cringe e imbarazzante perché davvero la sua stupidità il suo amore per le creature marine ma il fatto stesso che si affilisca a tal punto da mangiare un suo amico per fare contento a Homelander sono quanto di più comico ma anche tragico da vedere nella sua figura per quanto riguarda invece Hey Train mi è piaciuta molto la sua crescita anche se più di tanto una persona come Hey Train non può crescere lo abbiamo visto però mi è piaciuto che si è sinceramente dispiaciuto per la morte dell'ex ragazza di Hui però solo quando lui stesso ha subito un problema in famiglia con un super con questo super eroe razzista di cui adesso mi sfugge il nome e sono stato davvero felice di vedere il fatto che si sia vendicato in una scena molto splatter perché è una persona del genere ha avuto quello che si meritava ma come lo stesso fratello di Hey Train ha detto in questo modo è un altro super eroe che è morto per mano di un nemico che è stato insabbiato tutto quando in realtà avrebbe meritato una foto segnaletica e l'agonia mediatica questo avrebbe fatto sì che questo super eroe avesse torto pubblicamente e che la comunità afroamericana di quella cittadina avesse avuto ragione in questo modo è l'ennesimo morto e non si sa perché mi è piaciuto molto vedere questa dinamica sul fatto che Hey Train alla fine abbia fatto la cosa giusta ma di pancia e non abbia pensato alle conseguenze qui Maeve che ha sempre una parte minore rispetto agli altri super eroi secondo me potrebbe dare tantissimo la usano comunque in modo molto saggio finalmente è a tutti gli effetti un'alleata dei boys anche se è fuori luogo in ogni posto non è non è tra i boys non è tra i super finalmente anche lei riesce a ottenere quello che vuole quindi per questo dico una serie molto conclusiva da questo punto di vista ognuno ha la fine del suo arco narrativo ed è molto interessante questa cosa come sia quasi positiva il finale il finale di questa stagione Queen Maeve finalmente riesce a liberarsi dei suoi poteri sacrificandosi da un'esplosione provocata da soldatino e se ne può scappare in campagna con la sua compagna che tanto era perseguitata anche lei da Homelander mi è piaciuto molto questo suo come si dice questo suo escursus anche la la parte a metà in cui fa fa l'amore fa l'amore fa sesso con Buccer e questa cosa che sembra senza peso poi invece fa sì che Homelander ne fiuti l'odore e la rinchiuda proprio perché sente che si è allontanata da lui quindi questa anche questa metafora del tenere sotto controllo tutto di Homelander porta poi il percorso di Queen Maeve al finale mi è piaciuto vedere anche come Ashley abbia a tutti gli effetti perso definitivamente i capelli è davvero stato brutto impressionante da vedere è umiliante vedere che Homelander la tratti in questo modo la umili pubblicamente è stato duro da vedere spero che il ruolo di Ashley possa in qualche modo in futuro diventare un po' più positivo lo abbiamo visto già nel finale di questa stagione che dove può fare una piccola scelta per salvare delle vite lo ha fatto ha cancellato il filmato dove Queen Maeve era ancora viva parlando di Black Noir ovviamente mi dispiace un sacco che non è assolutamente il Black Noir del fumetto non è assolutamente forte quanto Homelander era chiaro che non era il clone di Homelander come nei fumetti però mi aspettavo comunque una forza medesima è stato eliminato in 4 e 4 8 mi dispiace anche che a parte scoprire il suo volto in un flashback e farci capire perché era stato sfigurato e da chi era stato sfigurato in realtà il suo percorso finisce qua mi sono tenuto i personaggi migliori per la fine perché la crescita più bella di questa stagione secondo me è stata quella della femmina della specie Kimiko e di Frenchy il francese sono stato davvero felice di vedere tutto il loro percorso personale di vedere come hanno mostrato come Frenchy sia in un certo senso legato a un senso di obbedienza dal padrone che lo comanda in quel momento di come lui stesso ha detto a un certo punto della sua vita suo padre che lo ha maltrattato gli ha messo un guinzaglio al collo e l'unica cosa che è cambiata è chi c'era dall'altra parte vedere il suo percorso anche comico nel finale in cui finalmente si ribella e esige una democrazia è stato davvero davvero bello Frenchy anche se in realtà non lo è ma per me è il cuore dei boys mi è piaciuto anche dal punto di vista estetico che alla fine ha indossato gli occhialoni del fumetto sono stato davvero colpito dal suo percorso per non parlare appunto anche di Kimiko che ha passato tutta una fase centrale senza poteri per poi rivolirli per aiutare i boys questo mi è piaciuto mi è piaciuto tantissimo l'episodio con una piccola parte musical ma anche l'episodio in Russia sono stati davvero tanti tanti piccoli tante piccole perle di gioia anche in questa stagione quindi in un certo senso mi è piaciuta più della seconda stagione il finale è sicuramente più tranquillo rispetto alla terza stagione ma ripeto non datelo per scontato non prendetelo sotto gamba questo finale perché se chiude tante trame in modo pacifico passatevi il termine ne lascia aperta una ne lascia socchiusa una che potrebbe davvero diventare molto importante per la prossima stagione mi riferisco appunto a quello che ho detto all'inizio grazie per avermi seguito fino a qui io come sempre con l'inchin con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video saranno sui fumetti di cui parlo tutti i mesi grazie ancora a The Boys che mi ha regalato anche il logo del canale la foto che uso spesso nel canale quindi sono molto legato dal punto di vista professionale a questa stagione grazie per avermi seguito ancora e noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live arrivederci